il papa che esce buona domenica belli super gesù cristo vedeci il parco bella viva gesù cristo che cazzo siete vai toni vai col margano bella cazzo toni hai rotto il coglione se fosse stata così la messa io ci sarei andato sempre anzi cazzo sarei prete figa sarei parco bella raga tutti insieme intoniamo evviva signore evviva signore evviva signore figlio di cristo amico gesù vaccina cristina 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 va bene che dolore figa che prefire porca droia faccio vedere faccio vedere qualche spawn figo che conosci solo che giocava l'appdance ti va vai ho trovato la chiave dell'ultra state assistendo a un altro partito di tapparela con i campi di lava un altro ascensore di rapine allora qui sul cassetto bianco spawn un defibrillatore defibrillatore a caso non lo conosce nessuno non te lo assicuro non l'avete mai fatto non l'ha così qui rip tre cose qui spawn un bpx mentre qua sopra in mezzo a questi due server un bpx poi qui pure grafica da le altre cose che sono bruti o stifragioni belle crozzi e capoccioni spawn un bpx 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 che sono stati gli oggettini qui dietro un m4 sdraiato m4 qui su questa schifania qui attaccavo proprio dove dovrebbe essere il foglio per parlare spawn un mpx spawn un vettine rubli, dollari spawn un bpx spawn un bpx ahhh guarda ordinati andiamo a vedere se spawna la green e beh andiamo ti seguo cazzo sai qui dove spawna la green? no allora qui allora sopra spawna il foglio di intense prenderò pure tanto io ho già perso una chiave da 600.000 su datativa intelligence e qui in mezzo a questi libri dove c'è lo spazio un simil trus fa una lecchina quella 5 milioni grande e chi lo fa un tutorial così? ma il dpc lo faccio anch'io dpc quando ci a livello ero al massimo gli perception avrò molto più probabilità di trovare schede video solito video molte probabilità di trovare schede video ahhh ahhhh 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 Sono pronto! Continua pure il tutorial! Ieri ho fatto l'hub con i buoni Yem sotto a palla! Vai tranquillo! Continuiamo il tutorial musicale di The Lab! Andiamo verso Katta adesso! Ok! Qui si fa una V-Pis a Katta, l'ho qua! Qui? Aha! E poi qui tutto intorno a questo tavolo sempre i V-Pis e i fogli degli impiari per sicuramente quello che hai preso! Veloce, veloce, non pensare! Ho scudito o no! Qui è aperto, perché qui è aperto? Io non mi vorrei lasciare aperto! Io non ho fatto! Pazzo, mania! Tentami di smutarti! Vieni, guarda! Vieni qui fuori a sinistra! Molto bene! Ti ringrazio! Poi qui è il caffaretti del cazzo, il chain, la nota... Il chain l'hai scudito con un posto di pane, non vuoi? Eh, c'è pure il computer! C'è quello normale da reggendo! Faccio qualche trade interessante, perché io anche il livello di trade e cose non è che ne sappiamo molto di trade! No, dovevo dire quello sbagliato! Ti ringrazio adesso! Ragazzi, trade interessati in quel di Dark Wolf dove possiamo scambiare cose importanti tipo... Paznauz e... Il trolley con le mutande usate! Il trolley con le mutande usate! Niente, continuiamo la nostra tutorial musicale di Dabla! Tutto dal vivo! Con... Are you ready? Yes, I am! Grancora ci vero! Con... Splicker 22! Oh, 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 oh! Si può aprire! Oh, 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 ci puoi prenderti noi! Sul legno! Sul legno! Spruzzone musicale! urgente! attenzione, c'è ancora un'altra cera di torno morti molto bene dimmi te, o abbiamo parti che continuiamo così a uccidere Ryder si e poi usciamo anche perché si fa tardi devo fare palline e chiudere continueremo il tutorial, la prossima volta vediamo che spawra, dove spawra aspetta, aspetta, aspetta fuori di te gente in fondo, il fuoco al corridoio, verso ponte cucina, cucina, cucina ok, credo sia un player solo che stiamo in alto capione del mondo è seccato si si, è morto, è morto giusiaia evviva giusiaia club giusiaia porca gioia sto giocando con Rambo benvenuti a sti fracioni belle crozzi e capoccioni benvenuti a sti fracioni belle crozzi e capoccioni devi stare attento a sti fracioni aspetto le vostre foto in snapchat ne approfitto per salutare Enzo Guattamagli grazie mille Enzo degli 82 mila euro ti mando l'adesivo come promesso anche Nunzia 85 grazie per la macchina una Porsche era proprio quello che mi mancava per la collezione grazie mille Franca e Lucia di Modena vi ringrazio grazie per i 24 mila euro Giulio 85 grazie per i 5 euro Giulio e non lo so e che cosa dovevano fare? mi fai fare la figura di me? no no Giulio ti voglio bene ti faccio conoscere Giulia e Marcella che mi hanno regalato la Mercedes settimana scorsa sono della tua zona magari non ti regalano un cazzo ma almeno limoni e in questo periodo è anche vietato lo devi fare con la mascherina è finita no è perché sto gioco è un casino e ognuno lo gioca come vuole lui il Tarkov è semplice allora se riesco a giocarci io ci riesce chiunque a giocare a Tarkov devi entrare in una mappa devi andare dal punto A al punto B e devi uscire vivo puoi fare quello che vuoi puoi anche camminare guardare in giro nasconderti strisciare fare la cacca ammazzare la gente gridare correre camminare all'indietro saltare tutto il tempo poggiare per terra oggetti andare in giro puoi fare quel cazzo che ti pare basta che entri in un punto A e decidi in un punto B i developer ci hanno messo anche delle missioni puoi anche fare delle missioni se vuoi puoi fare quello che vuoi la prossima wipe ad esempio tu puoi giocare a Tarkov andando in giro e chiacchierare farti amici ad esempio fermi i player e ti metti lì e chiacchieri loro non ti sentiranno ti uccideranno ma tu chiacchieri oppure ti puoi sdraiare sul prato tutto il tempo per 40 minuti ti guardi il prato ascoltando il vento e gli spari eccetera e ti sdrai questo è Tarkov almeno le bombe le devo tirare e adesso scappiamo scappazia Carpazia qua di fianco m'è uno va bene va bene